buongiorno benvenuti a questa diretta della zuppa da new york mi scuso per l'ora sono le due in italia però sono le 7 e 59 ce ne sono le otto di mattina new york il tempo di prendere vi faccio vedere il che bisogna guardarlo bello grosso eccolo qua guardate questo new york times di oggi 6 euro 6 euro costa 6 dollari il new york times di oggi guarda quanta carta c'è questo è il new titolano tracking a package the paris and price of migrant smuggling parlano anche oggi degli immigrati anche sul new york times e poi un altro pezzo questo qua di fondo che vedremo questo di spalla che è contro i giudici conservatori della corte suprema sul free speech poi dopo ne parleremo piuttosto interessante anzi vediamo se abbiamo tempo quali sono i temi della giornata guardate io li ho messi insieme i temi della giornata alla fine sui quotidiani italiani ci sono tre temi che tutti e tre evidenzano una cosa piuttosto singolare e cioè che in questo governo movimento 5 stelle e lega proprio d'accordo non vanno vanno a litigare un po su tutto con sfumature diverse con ansie diverse con racconti diversi ma i giornali oggi trasudano soltanto di indecisioni e di come possiamo dire di contrapposizioni tra momento 5 stelle e lega partiamo dalla prima quella del corriere della sera di tanti altri giornali fico contro il la chiusura dei porti i porti non li chiuderei dice il presidente della camera le ong aggiunge roberto fico salvano le persone che è esattamente la posizione diverse e contraria a quella che pensa salvini e quella che sembra dire anche di maio che oggi negli indiscreti dei giornali dice sono opinioni personale cosa è successo è successo che l'accordo europeo oggi viene commentato da tutti oltre a questa contrapposizione del governo c'è la lettura chiara di questo accordo con due fatti fondamentali il primo è la lettura dell'accordo travaglio lo stellone del movimento 5 stelle il portavoce dei buoni risultati il grande successo internazionale di conte ancora mi è rimasto impresso la prima dichiarazione di travaglio oggi cosa fa racconta i passi avanti fatti con l'accordo troppo poco conclude nell'ultima riga travaglio ma meno di niente meglio del niente di prima troppo poco ma meglio del niente di prima il pezzo è ben conosciamo noi al giornale come si fanno questi pezzi quando una cosa fa schifo si cerca di dire e trovare gli elementi decenti di quella cosa che fa schifo e ognuno è strillone a casa sua insomma e lui lo è con il movimento 5 stelle e poi devo dire che non è solitario e anche con degli insospettabili il mond ieri dice l'italia ha ottenuto di fatto la sepoltura del regolamento di dublino se si sentiva cosa dice daniele capezzone un altro insospettabile mi sembra sulla verità di oggi dove scrive capezzone dice tutti i giornali stranieri che hanno dato il senso di come l'italia abbia portato a casa qualcosa vedete io invece penso che l'italia non ha portato a casa nulla che questo sia stato un bluff che questa sia una cosa totalmente inutile e che la differenza banalmente è che l'italia ha portato qualcosa in termini di principio di forma di agenda di battere appunto come dicono tutti i politici italiani pugni sul tavolo ma dal punto di vista del pragmatico della sostanza ha portato zero mi conforto in questo la sarzanini oggi sul correa della sera che spiega punto per punto le cose che per i quali ci hanno fottuto una è chiarissima una è chiarissima voi vi ricordate che nel 2015 si fece un accordo in europa per cui una parte dei migranti che erano arrivati in italia si potevano redistribuire negli altri 27 paesi europei però ricordate quell'accordo faceva che sì che 40.000 immigrati italiani erano redistribuibili secondo l'accordo firmato a brusselieri che è del tutto volontario su tutti quanti i punti fondamentali rende altrettanto volontaria la redistribuzione dei 40.000 migranti e come vi ricorderete dei 40.000 solo 15.000 sono stati andati presi da altri paesi quindi noi avremo altri 25.000 da redistribuire in europa ma solo chiedendo il permesso perché mentre prima era obbligatorio ci sarebbero addirittura state delle sanzioni adesso dopo il l'accordo di brussela questo è del tutto volontario insomma vi rendete conto che questa è una sola una enorme sola e questa sì è pratica concreta effettiva non le minchiate vedremo faremo vi ricordate i nuovi mostri sembra il vescovo che si trova nella parrocchia di pericolo vedremo faremo diremo andremo insomma cagate il pezzo da sanzioni oggi è chiarissimo e mi sembra molto lucida tecnicamente nel raccontare come questo accordo europeo non serve a niente anche se alla merkel e questa è la grandissima ironia cioè noi siamo qua a interrogarci su quello che succede e la merkel sapete che cosa ha fatto ha fatto degli accordi bilaterali con 14 paesi alcuni si sono sfilati secondo gli indiscreti dei giornali tra cui ungheria polonia ma non solo e sapete cosa sono questi indiscreti questi questi accordi questi accordi sono degli accordi bilaterali per cui la germania ridà a questi paesi parte dei migranti che da questi paesi sono arrivati in germania via questi paesi sono arrivati in germania un sudanese un nigeriano che è arrivato in germania dall'austria dalla polonia dalla francia dalla spagna beh insomma secondo degli accordi bilaterali che avrebbe fatto la merkel possono essere restituiti a questi paesi di non di origine ma di transito beh è una cosa fantastica cioè mentre da noi non ci tolgono i migranti i migranti vengono tolti dal paese che aveva detto accogliamoli tutti vi ricorderete la merkel io la trovo un'altra cosa straordinaria cioè in realtà vale per le migrazioni secondarie non quelle primarie cioè le secondarie in europa vengono normate con questi accordi bilaterali della potente germania e quelle primarie da fuori a casa nostra vengono totalmente lasciate insomma direi proprio ti sento ti spengo esprimi solo le tue opinioni che non valgono nulla maria barbara siragusa brava maria barbara spegnila deficiente che non sei altro io esprimo sempre e solo le mie opinioni e se non valgono nulla ma perché stai qua le due di pomeriggio di domenica ad ascoltarmi vai a fare qualcos'altro vai a leggerti un librino se lo sai leggere no ma pensa sta cretina spengo spengo ma cosa spegni non è la televisione genio beh straordinaria beh anche la domenica anche nonostante mi sia un po rilassato in questi due giorni mi scuso senza zuppa la domenica qualche cretino c'è sempre che come si dice accende spengo io sono fantastica vabbè e andiamo avanti sul secondo fronte invece di questo governo dopo quello della migrazione beh insomma è chiaramente quello della dei diritti civili questo si sapeva e qui è il titolo favoloso è quello di feltri salvini a pontida i grillini al gay pride e qui il come si chiama ciao rita buongiorno e qui ovviamente la contrapposizione è tra il ministro fontana ministro della famiglia per cui continuo a ribadere che la famiglia normale quella di uomo donna e figli e spadafora invece sottosegretario alle pari opportunità questo governo c'è un vantaggio un enorme grandissimo e straordinario vantaggio che ne dica la carfagna e che non ha il ministro totalmente inutile delle pari opportunità e da un sottosegretario come giusto che sia per quello che può servire le pari opportunità non si fanno per decreto purtroppo comunque spadafora per le pari opportunità va alla manifestazione di lgbt che è presieduta che ha un grande successo secondo i giornali a milano con 250 mila persone beppe sala la città dell'accoglienza liberissimi ovviamente di fare tutte le manifestazioni che vogliono il punto fondamentale continua a dire fontana che la famiglia è un'altra ma su questo c'è il secondo grande tema di contrapposizione e cioè che il movimento 5 stelle ha una sensibilità per i diritti civili che non è decisamente quella del movimento 5 stelle qualcuno dice feltrico è invecchiato sarà pure invecchiato ma uno che fa il titolo salvini e puntita e grillini al gay pride mi sembra un genio perché sintetizza in dieci righe quello che succede perché nel frattempo salvini oggi celebrerà a puntita la sua grande diciamo manifestazione che ha un sapore molto diverso rispetto a quello di bossi e compagnia cantante terzo tema di confronto tra lega e movimento 5 stelle beh è stupendo perché oggi c'è il terzo tema e cioè il famoso decreto dignità che aspettiamo da una settimana decreto dignità è il titolo più ridicolo che si possa immaginare perché è un decreto che pensa per decreto di far scomparire il lavoro cosiddetto precario e per fare scoprire il lavoro precario che cosa si fa secondo questi geni del ministero cosa si può fare si rende più difficile assumere il contratto a tempo determinato così come nel passato il governo gentiloni per evitare il precariato che fece abolì i voucher e quindi riportando a nero tutto il lavoro diciamo i lavoretti beh insomma questa genialata verrà fatta anche da di maio ma il la lega e qui c'è la grande contrasto cosa voleva voleva reintrodurre almeno per l'agricoltura i lavoretti cioè i voucher che erano almeno la possibilità di pagare stare regolari con grandissima semplicità burocratica niente non glielo vogliono far fare ma cosa sta succedendo all'interno del movimento del ministero dello sviluppo economico e del lavoro e che purtroppo ministero dello sviluppo economico siamo passati da calenda e a di maio e nel ministero del lavoro pensate un po e si è fatta fuori tutta quella parte riformista di gius lavoristi cioè quella che va da sacconi tiraboschi adesso non è che c'erano più tutta la vecchia scuola di biaggi che l'aveva innervato e stanno uscendo fuori comunisti un pezzo favoloso oggi di lodovica bolian sul giornale dice chi sono i consiglieri di di maio e se voi vedete i consiglieri di di maio al ministero del lavoro e dello sviluppo economico sono tutta gente comunista ma veramente comunista comunisti così a parte tridico che doveva fare il professore che chinesiano ma imbarazzantemente quello che diceva che cos'è che aveva detto che non è necessario abbassare il costo del lavoro in italia anzi forse bisognerebbe elevarlo e altri concetti marxiani di questo tipo a parte lui vede bene scrive bene oggi sul giornale i consulenti rossi ce ne sono di tutti i tipi c'è l'ex assessore di vendola e al comunista comunista alleva appunto a tridico insomma se voi andate a vedere chi è chi sono gli uomini con qui si consulta di maio capite bene perché questo decreto dignità sarà un decreto indignitoso per il futuro comunque porro tu ce l'hai con il governo tieniti berlusconi te lo cediamo volentieri salvini forever rossella hai capito tutto rossella sei un genio hai capito perfettamente tutto io sai che cosa vorrei fare rossella fiore vorrei venire lì e stringerti la mano darti un nobel della pace lo stesso che hanno dato a obama per capire il senso di quello che tu riesci a capire se tu capisci che questa roba di me pensa tu che voti come me cioè rossella c'ha lo stesso diritto di voto mio rossella e dio diamo lo stesso voto lei mi sta dicendo io ce l'ho col governo tieniti berlusconi cioè questi sono questi ci hanno veramente il chip nel cervello ci hanno quelli del momento 5 stelle vabbè ce l'hanno per definizione ma anche questi ultradi salvini non gli si può neanche dire ah allora cara rossella dei miei stivali forse non hai capito cosa sto dicendo sto dicendo che c'è una componente del governo che è contro la migrazione una componente del governo che vuole la libertà economica che è quella di salvini c'è una parte del governo che vuole le tradizioni che quella di fontana e ce n'è un'altra invece che vuole altre cose è fatta da consulenti comunisti sull'immigrazione vuole porti aperti dell'ONG sui diritti civili a posizioni molto simili a sinistra è quella parte del momento 5 stelle allora questo vuol dire avercela col governo cretina che non sei altro oppure fare un'analisi normale normalissima di ogni governo siamo qua no come dite voi che copiate il fatto quotidiano tutti no con la bava bava nei confronti del governo qualsiasi cosa essa fa questo volete che bravo il governo tutti in piedi come schimi il sungo sapete come avete la zuppa così applauso breve nei confronti del governo allora i voucher andavano benissimo i piccoli commercianti artigiani nelle piccole attività ma certo voi c'è chiaro davide una vera zuppa andiamo avanti parla dei soldi dati da berlusconi alla mafia servo è duro parla dei soldi di berlusconi dato dati alla mafia vedi tu puoi dire una stronzata di questo tipo e sai per quale motivo per quello che scrive oggi il financial times free speech cioè anche i cretini possono parlare anche gli ignoranti possono parlare fantastico ultima cosa è gramellini gramellini scrive molto molto bene devo dire oggi mi sono letto in fondo di gramellini su salvini prima pagina su quella della sera devo dire che è molto divertente scritto con le sue immagini con le sue metafore è molto divertente il problema è che gramellini non ci vuole stare un po come quella deficiente pensava che non ci volessi stare io cioè a lui sta antipatico davvero berlusconi scusatemi non solo berlusconi questo nel passato salvini e quindi dice in realtà salvini non passerà mai ai fatti tutte chiacchiere e distintivo ma sui fatti non ci sarà e cosa che dice il problema è che neanche gli riconosce il fatto che ci sta provando non glielo riconosce neanche niente non è riconosciuto si parla bene dice le cose un tempo parlava anche male adesso parla anche bene ma il fatto che non ci riesca non gli va bene bene e ultima cosa che mi segnalo in fronte pd diciamo di berlusconi mi sembra che il caos regni sovrano in quel partito che è diviso tra chi lo vuole rinnovare e chi invece dice che va bene così com'è contenti loro invece sul pd il caos regna sovrano anche in quel caso ma c'è dai a non insultare ma io non è che non l'insultare io io adoro insultare i cretini quando c'è un cretino io qua è l'unico posto al mondo in cui posso dirgli cretino accendi il cervello no è l'unico posto scusami è l'ultima cosa appunto che vi segnalavo di zingaretti l'intervista oggi sul corriere della sera e dice una cosa molto interessante e cioè che la lega è un partito xenofobo che è autoritaria ed è razzista su queste basi vuole diventare segretario del pd io direi si occupasse un po più del pd che di spiegare agli italiani che cos'è la lega anche perché in questo momento forse il tema fondamentale non è posizionarsi per contrapposizione ma è farci capire per quale motivo al mondo uno dovrebbe votare il partito democratico questo forse è il senso di una politica che io fare fare al partito democratico come a forza italia come a chiunque altro voglia contrapporsi al governo giallo verde la cosa fondamentale di zingaretti di oggi appunto è quella che lui si candiderà alla segreteria con le primarie che si riterranno a marzo quindi proprio prima della dell'elezione europea new york times di oggi la cosa che più mi divertito nel new york times di oggi che parla di immigrazione ma in questo caso dei messicani nel board sui confini americani e l'altra veramente bella storia è quella di how free speech è stato cannibalizzato dai conservatori sostanzialmente i conservatori per rispettare il primo emendamento dice il new york times fanno ne fanno di tutti i colori temi molto cari a me visto il pavoloso pizzo e pezzo pizzo di rob spencer che ho recensito per tutte le altre informazioni lo so che è un po troppo tardi è fascista è vero si è scordato è vero barbara si è scordato di dire fascista barbara martina ti saluto bene l'altra questione fondamentale è sul sito nicolaforro.it trovate tutto il resto vi do appuntamento come sempre e domani sarà un po complicato perché sarò in aereo speriamo di riuscirla a farla in tempo anche per domani ciao condividete se vi piace